Ci hanno detto al telefono una cosa e nel negozio ci hanno detto tutta un'altra cosa. Ci hanno detto no, finché non pagate tutto, non si riaccende la luce. Le parole di questa mamma che tenendo in braccio il suo bimbo di appena 3 anni con la febbre a 39 per la mancanza di riscaldamento hanno colpito nel segno. La famiglia che risiede nell'aretino era senza luce e senza gas dallo scorso 28 febbraio. Dopo l'interessamento di Federconsumatori e successivamente di Comune e Destra, la società che aveva staccato la corrente dopo una bolletta non pagata, la luce e il gas sono tornati ieri sera alle 19.30. Di fatto una vicenda gravissima. La famiglia è monoreddito, il bimbo ha diritto ai benefici della legge 104. Una situazione dunque di estrema fragilità. Come ce ne sono tante, ci conferma l'assessore alle politiche sociali del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, che si è interessata del caso. Qui c'è sicuramente una famiglia da supportare su tanti fronti, che si può fare? La domanda è sbagliata, nel senso che la famiglia è già dentro i servizi sociali e tant'è vero che prima che tutto succedesse avevano un appuntamento per chiudere la questione bolletta. Quindi la solidarietà dei singoli aiuta, ma in questo momento per fortuna non serve, perché questa è una famiglia che è già dentro un abbraccio degli assistenti sociali e che se ci sarà bisogno verrà implementato. Quello che è successo l'altro giorno è una cosa però abbastanza critica e che io vorrei magari anche insieme a voi fare comprendere nella sua particolarità. Cioè non si può stare tre giorni staccati dal mondo e soprattutto non si può stare quando si dice di riattaccare subito. Cioè questa è una situazione che imponeva una decisione immediata. Noi abbiamo cominciato a chiedere che venisse riattaccata questo servizio sabato e siamo arrivati lunedì sera. E devo dire con un'attenzione, con un aiuto di tutti, io voglio ringraziare Giovanni Grazzini per quello che ha fatto, ovviamente Croce Rossa, la protezione civile, perché quando ci siamo accorti che sabato nulla sarebbe successo abbiamo portato un generatore, però insomma non ci possono volere più di 48 ore per pigiare un bottone. Questo io lo capisco, però se questo abbraccio di cui lei parlava all'inizio è così caloroso e intenso, perché si arriva a questi punti? Soprattutto una famiglia monoreddito può pagare una bolletta di 900 euro? L'avrebbe pagata la comunità. Voi me la sareste accollata? Assolutamente sì. Vi consiglio di sapere e di conoscere che di famiglie così ad Arezzo ce ne sono molte. Non fate l'errore di pensare a una sola, perché sarebbe un'ingiustizia nei confronti di tutti gli altri. Qui c'è stato un sistema dei servizi erogati che ha cappottato, ma non ha cappottato il sistema della città. Quindi il consiglio da dare qual è? Visto che lei dice che ce ne sono altre in queste condizioni, affidatevi alla rete, affidatevi alle istituzioni? Il servizio da dare è di fidarsi, ma soprattutto che ognuno faccia il suo. Che vuol dire? Che vuol dire che se chiediamo il sabato di attaccare una utenza, ma aspetto che il sabato l'utenza sia attaccata. Intanto è scattata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare questa famiglia, tanto da spingere Feder Consumatori e Arezzo ad aprire un conto corrente dedicato. Ci si può dunque rivolgere all'associazione se si vuole aiutare questa famiglia.